Quali sono i desideri che devi ancora realizzare? In realtà mi viene sempre subito in mente poter vivere di musica, cantare sempre, pian piano ce la sto facendo e spero tanto di riuscirci sempre di più. Faccio una domanda che ho fatto a tutti, dove andresti se potessi prendere l'età metropolante e volare via? Ecco, e probabilmente Andrea lo sanno adesso. La sensazione dolce nasce in me.